Nel 1970 avevo 5 anni e passavo le giornate a giocare a pallone in cortile con gli amici. I maglioni per terra fungevano da pali della porta e bevevamo a canna dalle fontanelle. Sognavo di essere Pietro Anastasi, il centrovanti della Juventus dell'epoca. Non sapevo che fosse il giocatore simbolo di una classe sociale che a malincuore lasciava il meridione per venire a trovare lavoro nelle fabbriche del nord. Non lo sapevo e vivevo in un cortile l'integrazione di un intero paese.